Benefico, sì, nel senso, a parte quello, poteva esserci scritto qualsiasi cosa, però il regolamento non lo vieta, è quello che è sbagliato, cioè proprio è alla base che non ci sta. No, oggi sono tranquillo. Vabbè, poi l'anno prossimo, ancora capitano, mai farlo. Ancora, qualche volta ti me lo chiedete. Adesso lo vai. Sì, no, mi voglio veramente godere il presente e sto aspettando questo momento della matematica perché voglio festeggiare, insomma, so che saranno tutte emozioni bellissime e che mi voglio vivere, l'anno prossimo credo ormai non ci siano dubbi, no? L'ho già detto anche l'altro giorno, però voglio godermi il momento fino a un fondo, quindi già da martedì preparare la fatica di domenica, insomma, sarà bello, dai. Non vedo l'ora che arrivi domenica. Grazie. 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 Grazie.